Musica Ho qui con me Gianettore Gassani, avvocato matrimonialista. Cioè, ma com'è possibile 11 anni? I figli spesso sono considerati nelle separazioni e nei divorzi come un bottino di guerra. Vengono strumentalizzati e spesso la giustizia arriva tardi o non arriva proprio. È vero che in questi giorni i telefoni dei matrimonialisti sono molto molto accesi. Ecco, che cosa chiedono di più le persone che chiamano? Ma diciamo che i telefoni degli avvocati matrimonialisti in questo periodo sono un po' come i telefoni di emergenza. Scottano. Questa norma dice che ci possono essere gli elementi di confusione, dice evitiamo bambini con 4 o 8 cognomi. Manca una circolare ministeriale, ma manca una legge. Che cosa succederà nel caso in cui una coppia non fosse d'accordo sull'attribuzione del cognome, cioè prima paterno o materno? Bisognerà affidarsi al giudice e su questo mi preoccupo. L'Ami è sempre stata in prima linea sulla questione del doppio cognome. È giusto quindi rivendicare la possibilità di poter attribuire entrambi i cognomi e poi la coppia deciderà di mettere solo il cognome della mamma o del papà o mettere entrambi i cognomi ai figli. L'Italia è un paese pluricondannato dalla Corte Europea. È un paese sempre ultimo in termini di tempi della giustizia, anche a volte di qualità della giustizia. Credo che la denegata giustizia, soprattutto in tema di diritto di famiglia, è una tragedia. Perché quando un padre viene stromesso dalla vita di un figlio o una madre, a seconda dei casi, è una tragedia che nessun esercimento potrà mai colmare. Con una sentenza storica la Cassazione ha sancito che l'assigno di divorzio non può essere impiegato per spese voluttuari. Il matrimonio non è più una sistemazione, è una scelta d'amore e di coraggio. È l'esaltazione dell'autonomia, della indipendenza e della dignità della donna. Questa volta ha scritto un romanzo, la cui storia è molto significativa, commovente, densa e ricca di emozioni, ambientata nell'Ucraina dopo il disastro di Cernobyl. Ho descritto fedelmente quel territorio, l'internat, gli orfanotrofi. E devo dire che la comunità ucraina è stata molto contenta, a Bologna è venuta a salutarmi e ha riconosciuto nella descrizione del territorio, delle tragedie di Cernobyl, quello che ho scritto nel romanzo. L'Ucraina, una terra che lei conosce molto bene a livello professionale proprio perché si è occupato di adozioni internazionali. Sì, ma questo libro che non parla soltanto di bambini o di adozioni, parla soprattutto di adulti, parla di fragilità di noi adulti, capacità molte volte di interagire con i ragazzi. L'Ultimo Abbraccio è un romanzo che racconta, tu dici, 70 anni di solitudine, di dolori, di amore e di speranze. In questo libro io racconto 70 anni di solitudine, racconto 70 anni di orfanotrofi, quindi di internet, ma anche di adozioni pilotate, adozioni che sono in qualche modo state fatte da personaggi loschi. Quando è il momento giusto per l'ultimo abbraccio? Ogni volta è il momento giusto perché non sappiamo mai se quel momento è l'ultimo. La vita è fatta di ultimi abbracci. Un intreccio di storie vere, di adozioni avvenute in un momento storico drammatico per l'Ucraina all'indomani del disastro di Cernobyl. Migliaia di bambini arrivati nelle famiglie italiane per affidi temporanei, poi divenuti definitivi. Nel libro, l'ultimo abbraccio dell'avvocato Giannetto Regassani, la sua esperienza di avvocato di famiglia, che ha seguito da vicino decine di casi qui romanzati, protagonista un immaginario ebreo polacco, Dimitri Wozniak. Il libro parte con Dimitri che riceve una lettera, in questa lettera una foto, da lì una sorta di epifania. Cosa accade nella sua vita? Dimitri era scampato ai campi di concentramento nel 40, perde i genitori, entra in un orfanatrofio e poi in quell'orfanatrofio, dopo tanti anni, si metterà a cura di cinque bambini senza speranze. E li accompagnerà alla rinascita, alla via d'uscita. Ecco perché è una storia potente, una storia che fa capire che nella vita bisogna sapersi rialzare, che non è mai finita fino a quando non finisce la vita. Grazie a tutti.